Mia cara Claire, ho parlato con quel vecchio bastardo di Ramirez, che ha accettato la mia proposta. Mi raccomando, non cacciarti nei guai. Io lo so chi siete. Lo so. Lei è la donna più bella Claire per alta. Che stai dicendo? Su quelle montagne si muore. In un modo o nell'altro. Non si sfugge. Dacci la mappa e ce ne andiamo via di corsa. Questa è la famosa mappa dell'olandese. Il nostro Jacob Waltz. Conosco ogni sasso, ogni cactus e ogni serpente assonagli di quelle maledette montagne. E conosco bene quei musi rossi. Avete una mappa della miniera? È proprio questo il punto. Oltre cento persone sono morte o sono state uccise inseguendo le tracce di quella stramaledetta miniera. Perché non avevano questa? La mappa dell'olandese. Stai aspettando qualcuno, vero? Una donna. La mappa della miniera. Quello che si ama tanto prima o poi ti uccide lo stesso.